2 milioni di farmaci illegali sequestro senza precedenti nel porto di ancona da conti a salvini a pesaro giovedì di incroci di leader nazionali elezioni arriva il primo confronto pubblico fra i quattro candidati sindaco di pesaro le segnalazioni a rossini tv pneumatici abbandonati in area agricole fano si di rosa per l'arrivo del giro d'italia mercoledì 15 maggio buona serata e benvenuti al nostro telegiornale questa sera apriamo l'edizione con una notizia che arriva da ancona ma che riguarda tutte le marche oltre 2 milioni di dosi di farmaci illegali provenienti dall'india sono sbarcati oggi nello scalo dorico l'operazione effettuata dalla guardia di finanza rappresenta il più grande sequestro di medicinali illegali avvenuto in italia vediamo il servizio un imponente carico di farmaci illegali provenienti dall'india destinati a consumatori marchigiani e del resto d'italia è un sequestro senza precedenti quello effettuato nel porto di ancona dalla guardia di finanza assieme ai funzionari dell'agenzia delle dogane dei monopoli le fiamme gialle hanno confiscato un carico di 2 milioni e 100 mila dosi di medicine provenienti dall'india sprovviste delle certificazioni necessarie un milione e 700 mila di questi contenevano principi attivi destinati a curare disfunzioni erettili ma non solo c'erano pure 400 mila ormoni per favorire la gravidanza spesso usati dai bodybuilders per aumentare la massa muscolare così come figuravano antiepilettici anche utilizzati come potenziatori degli effetti delle droghe i medicinali si trovavano su un tir sbarcato da una motonave proveniente da egumenizza in grecia per eludere i controlli aveva fornito documenti che indicavano pacchi di una società di cosmesi greca risultata ignara del trasporto invece all'interno dell'auto articolato c'erano 12 bancali per 7 tonnellate di medicine illegali questo sequestro il più vasto mai registrato in italia in tema di confisca di medicinali senza autorizzazioni il conducente del veicolo è stato denunciato alla procura della repubblica di ancona secondo le stime il carico avrebbe potuto generare profitti nel mercato clandestino per 20 milioni di euro con gravissimi rischi per la salute dei potenziali consumatori ed ora ci spostiamo a pesaro dove il weekend appena trascorso ha registrato controlli congiunti fra la polizia locale la questura e la polizia stradale in prossimità dei locali della movida estiva appena riaperti sono state controllate 265 persone e rilevate 54 infrazioni con 9 patenti ritirate 5 di queste per positività all'alcol test e una alla cocaina i controlli della polizia locale hanno portato anche alla chiusura temporanea di un locale in viale trieste ed ora passiamo alla politica pochi giorni dall'arrivo di ellish line a pesaro quella di domani si annuncia come un'altra giornata di convergenze di leader politici nazionali in città alle 14 è infatti atteso a palazzo gradari il presidente del movimento 5 stelle giuseppe conte per un incontro pubblico con la cittadinanza dedicato alle prospettive in tema elettorale temi che alle ore 15 saranno toccati anche da matteo salvini il segretario della lega sarà invece ospite del charlie urban hotel di viale trieste dove presenterà il suo libro contro vento continuiamo a parlare di politica perché è stato fissato il primo incontro pubblico fra i quattro candidati sindaci di pesaro alle prossime elezioni amministrative ad organizzarlo è l'azione cattolica di pesaro che lunedì 27 maggio alle ore 21 all'hotel baia flaminia organizzerà un dibattito sulle diverse proposte politiche con andrea biancani marco lanzi fabrizio oliva e pia perricci ogni candidato avrà a disposizione lo stesso tempo per rispondere alle sollecitazioni messe sul tavolo dal giornalista raffaele vitali che sarà il moderatore dell'incontro e fra i tanti temi elettorale figurano anche la tutela degli animali il contenimento del randagismo e la regolamentazione delle colonie feline criticità e richieste che guardie zoofile e associazioni animaliste del territorio hanno presentato ai quattro candidati sindaco di pesaro in questi giorni abbiamo avuto degli incontri con i candidati sindaci e consiglieri e con i consiglieri regionali in carica a tutti abbiamo richiesto di mettersi in regola con la legge regionale 10 97 con la realizzazione di gattili oasi feline e fare una convenzione tra i tra comuni per la gestione degli stessi in più abbiamo chiesto un dialogo tra comuni per far pressione sulla regione per la modifica della legge regionale 10 del 97 e in particolare per rendere obbligatorio la registrazione all'anagrafe felina dei gatti e la posizione del chip ai gatti di proprietà e sempre più frequente è il ritrovamento di cucciolate di gatti neonati o gatte non sterilizzate abbandonate nelle colonie feline questo comportamento è punito dall'articolo 727 del codice penale e noi guardie zoofile stiamo chiedendo agli amministratori maggiori armi per combattere la piaga del randagismo e soprattutto degli abbandoni degli animali tra le azioni che abbiamo richiesto e c'è l'avvio di campagne di sensibilizzazione per promuovere campagne educative per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sterilizzazione dell'adozione responsabile è necessario un maggiore controllo da parte di asta veterinaria nel monitoraggio delle colonie feline e di situazioni di dubbie di accumulo in collaborazione anche col comune servizi sociali la polizia le guardie zoofile e la popolazione per monitorare prevenire situazioni di disagio sociale restiamo in tema elettorale ma ci spostiamo a montelabate dove con la lista civica bene comune si candida a sindaco anche roberto rossi noto farmacista del paese attivo con l'associazione culturale monsabbatis roberto rossi da sempre coinvolto nella vita comunitaria di montelabate con la professione di farmacista e anche con l'associazione culturale monsabbatis e ora questa sfida elettorale della candidatura a sindaco con la lista civica bene comune con quali obiettivi una lista civica fatta di cittadini e cittadine di montelabate che vengono mossi in questo da da una passione da una da un affetto per il proprio territorio per la propria cittadinanza e quindi non vengono mossi da una rabbia per le cose che normalmente non vanno o da qualche recriminazione da fare a qualcuno ma appunto da un amore da un amore per il proprio territorio per la propria gente e dalla voglia di guardare avanti e di vedere crescere montelabate di vederlo crescere insieme alle realtà che ci affiancano al a tutto il territorio insomma quali sono le priorità in caso di successo elettorale ma abbiamo le idee molto chiare distribuiremo nei prossimi giorni alla popolazione questo piccolo libretto questo libretto di 50 pagine di immagini e di parole in cui raccontiamo il nostro territorio facciamo poche promesse ma prendiamo degli impegni importanti credo che è appunto principalmente l'impegno di tornare alla gestione ordinaria al territorio a una programmazione della gestione ordinaria del territorio perché è quello che migliora la vita delle persone poi nel quotidiano e quindi una cura un'attenzione particolare alle cose di tutti i giorni l'illuminazione al servizio dell'illuminazione pubblica alle strade alla cura del verde degli spazi comuni insomma innanzitutto partire da queste cose un grande impegno per partire ripartire da queste cose quindi dal territorio e poi ovviamente il pensiero alle emergenze insomma quelle che sono le emergenze strade da anni purtroppo inagibili e chiuse per frane per smottamenti che debbono essere in qualche modo riaperte oppure la cura dei corsi d'acqua soprattutto laddove i corsi d'acqua scorrono nei pressi delle abitazioni abbiamo delle parti dei nostri abitati che sono a rischio allagamento ad esempio ecco tutte queste cose sono tante insomma poi sono le emergenze alle quali dovremmo in qualche modo nel caso in cui saremo chiamati ad amministrare il territorio dovremmo rispondere appunto e per migliorare appunto la vita della popolazione poi ci sono le opere straordinarie ma quelle vanno programmate e meditate con con serenità e con calma e soprattutto in accordo e in sintonia con il sentire anche della popolazione ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre l'invito è quello di mandarci foto video oppure messaggi al numero di whatsapp che vedete in sovrimpressione continuano i tentativi di truffe agli anziani nello specifico una donna pesarese ha contattato rossini tv per segnalare come ieri alle 22 30 abbia ricevuto la telefonata da persone che in maniera molto convincente si sono spacciate per il locale comando dei carabinieri avvisandola che la figlia era in stato di fermo poiché aveva ridotto una persona in fin di vita in seguito ad un incidente stradale telefonata in cui si arrivava la richiesta di denaro finalizzato a spese legali la signora ha evidenziato come queste persone fossero a conoscenza di molte informazioni personali quale nomi cognomi indirizzi e così via fortunatamente la donna si è resa conto della non attendibilità della telefonata ed è riuscita a svincolarsi dalla conversazione e avvisare subito le forze dell'ordine continuiamo a parlare delle vostre segnalazioni in questo caso una segnalazione che ci arriva da un altro cittadino e che parla di abbandono di rifiuti continuano le segnalazioni a rossini tv discriteriati abbandoni di rifiuti l'ultimo arriva da strada san lorenzo tracciato sterrato che dalla trafficata area industriale di strada montefeltro sinerpica in collina in un percorso fra aree agricole qui sono stati abbandonati una decina di pneumatici malcelati da un cespuglio a pochi metri da campi coltivati e da un maneggio un abbandono censurabile non solo per mancato senso civico ma anche per l'impatto inquinante che può determinare va ricordato che gli pneumatici di provenienza domestica sono rifiuti che non possono essere conferiti nei normali cassonetti ma vanno portati al centro di raccolta rifiuti di marchi multiservizi o in alternativa possono essere ritirati gratuitamente a domicilio ricordiamo il numero whatsapp per le segnalazioni a rossini tv 3 7 0 3 6 6 7 2 1 0 si avvicina la stagione estiva e dopo il riconoscimento delle bandiere blu arrivate a pesaro per la zona di ponente di sottomonte in questi giorni sono in corso i ripascimenti per preparare le spiagge all'arrivo dei bagnanti completato un primo intervento nella zona sottomonte le ruspe si sono spostate oggi nella zona di levante per un intervento sulle spiagge che si concluderà entro la fine di maggio è tutto pronto per l'arrivo del giro d'italia fano unica tappa marchigiana della corsa rosa che arriverà al traguardo in città attorno alle 17 di domani fano si tinge di rosa undici anni dopo l'ultimo passaggio il giro d'italia proda nella città della fortuna che sarà arrivo della dodicesima tappa martin sicuro fano di giovedì 16 maggio 193 chilometri che partiranno dal confine abruzzo marche in quello che sarà l'unico transito della corsa rosa in regione dall'ascolano fino a fano con un percorso che da monte cosaro si allontanerà della costa per poi entrare in provincia attraverso monteporzio mondolfo san costanzo l'ultimo strappo sul monte giove prima del traguardo a fano passando fra lungomare via l'adriatico via gramsci e l'arrivo al pincio previsto attorno alle 17 fanno si prepara ad una maxi organizzazione che da oggi ha cominciato a liberare 2000 posti auto e prevede dalle 13 alle 18 di domani la chiusura al transito di ben 178 strade per domani sia il comune di fano che quello di mondolfo hanno anche messo l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado tutti in strada dunque a colorare di rosa l'arrivo del giro e a scrutare le geste del campionissimo pogaciar così come dei portacolori italiani tiberi zana milano pozzo vivo ed ora vi ricordiamo alcuni appuntamenti che saranno seguiti dalle telecamere di rossini tv che potrete seguire nei nostri prossimi spazi informativi cominciamo da urbino dove domani torna l'edizione primaverile del carrer day momento di incontro fra mondo accademico e mondo del lavoro con 48 aziente identico involti l'appuntamento è dalle 9 30 alle 17 30 nel cortile d'onore di palazzo ducale sabato 18 maggio il conservatorio rossini organizza come ogni anno la giornata a porte aperte alla città un open day alla scoperta degli studi musicali di livello accademico ampliatisi quest'anno ad oltre 100 corsi quest'anno a causa dei lavori di restauro della sede di palazzo livieri i momenti musicali ai punti informativi dell'open day saranno distribuiti fra la sede storica la chiesa della maddalena e la sala bay della provincia tra le 10 e le 13 le 15 30 e le 19 30 e dalla musica passiamo al teatro quello della piccola ribalta che sabato ospiterà la prima edizione del premio prospettive vediamo di cosa si tratta prospettive questo il nome del premio presentato dalla piccola ribalta che prenderà il via quest'anno con la prima edizione nell'anno di pesero capitale italiana della cultura 2024 un'iniziativa che nasce per premiare artisti da tutta italia che abbiano però valorizzato il territorio pesarese con le loro opere per l'occasione sarà inoltre presente in anveste di relatore lo studioso di musica e letteratura emiliano visconti un premio indetto dalla piccola ribalta premio biennale che comincia quest'anno si tratta di un premio che in qualche modo premia le opere di personalità che hanno diciamo evidenziata la parte culturale artistica del nostro territorio pesarese in tutto il mondo in italia ecco il primo premio che vogliamo dare alla scrittrice simona baldelli che appunto attraverso la sua scrittura è riuscita ad evidenziare anche il nostro territorio il premio nasce dall'esigenza di portare un discorso nuovo alla città nuovo perché il teatro si compone ormai di altri ambiti artistici sembrava bello come compagnia teatrale di promuovere nell'anno di pesaro capitale cultura 2024 un premio biennale che andasse a scovare personaggi e artisti che hanno fatto e stanno facendo bella la pesaro di questo tempo e dei tempi passati un'iniziativa che va a premiare le opere degli artisti da qui dunque la decisione per la prima edizione di assegnare il premio alla scrittrice simona baldelli abbiamo scelto simona baldelli uno perché è nata a pesaro vissuta è nata a pesaro adesso vive a roma ma anche perché tra i diversi romanzi che ha scritto ne ha scritti tre dedicati in qualche modo a pesaro ad esempio l'ultimo spartito di rossini che appunto parla di rossino oppure evelina e le fate che invece proprio tratta il dialetto scrivendo proprio in dialetto pesarese e in ultimo ha pubblicato proprio nel mese di maggio l'ultimo romanzo per ragazzi che il ciambellano e il lupo che appunto è ambientato sul monte san bartolo quindi insomma un'autrice che si fa notare per appartenere al territorio pesarese per noi importante partire proprio da lei siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi perché subito dopo questa prima edizione potrete vedere un nuovo appuntamento con la natura della cultura il nostro magazine che vi informa tre giorni a settimana su tutte le iniziative di pesaro capitale 2024 mentre questa sera in prima serata le 21 e 20 non dovete perdervi le storie della gulliver un racconto bellissimo di tutte le iniziative che fa la onus gulliver che elente del terzo settore associazione di volontariato questa sera parleremo di gulliver e rainbow un binomio vincente mentre domani vi aspetto alla consueta rassegna stampa del mattino buongiorno rossini vi aspetto quindi in diretta alle 7 e 20 ed ora vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni con il nostro meteo restate collegati su rossini tv e buona serata